Non commento i tweet di Renzi perché è il trentesimo tweet che ci prende in giro. Cioè, quanti esempi dobbiamo fare? La volta buona, riparto, sono state abbassate le tasse e poi aumentate, quanto Diego? Dello 0,1% alla pressione fiscale. 140.000 nuovi contratti, ieri si scopre che sono 13, non lo dice mica il Movimento 5 Stelle. Ripartita l'economia, il PIL ha più 0,8% e invece eravamo in recessione. Io non posso continuare a commentare, però pure voi, se io lo capisco, il Presidente del Consiglio bisogna dare gli spazi, però questo è un mentitore seriale. Cioè, veramente Berlusconi è un principiante al confronto.